Solo qualche anno fa il servizio di endoscopia digestiva dell'unità operativa complessa di medicina dell'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò era prossimo alla chiusura. A distanza di poco tempo la situazione si è capovolta. Da Cenerentola diventa centro spoke della rete per la cura delle malattie infiammatori croniche dell'intestino, così come stabilito dalla regione siciliana in un'integrazione al decreto dell'assessore della salute che istituisce la rete regionale per la gestione terapeutica delle malattie infiammatorie. Nell'organizzazione della sanità i centri spoke concentrano una rete di servizi in supporto dei centri di eccellenza AB e quello di Paternò sarà a disposizione del percorso diagnostico, terapeutico ed assistenziale per le malattie infiammatori croniche intestinali. Il servizio di endoscopia digestiva del Santissimo Salvatore oggi conta su quattro medici che dovrebbero diventare a breve sei. Soddisfatto per l'individuazione il deputato nazionale paternese di Fratelli d'Italia Francesco Ciancito il quale in una nota sottolinea come l'ospedale Santissimo Salvatore diventi punto di riferimento per l'area etnea. Voglio ringraziare aggiunge Ciancito la regione siciliana e il dirigente generale del dipartimento pianificazione strategica dell'assessorato regionale salute Salvatore Iacolino per aver accolto la richiesta e per la quale è stato determinante l'impegno dell'attuale direttore sanitario dell'ASP di Catania Giuseppe Angelo Reina nella qualità di primario dell'unità di chirurgia dell'ospedale di Paternò del dottore Giuseppe Lofaro primario dell'unità operativa di medicina e del dottore Giuseppe Laganga Senzio direttore generale dell'ASP di Catania. La trasformazione, conclude il deputato, permetterà di abbattere concretamente le liste d'attesa.